allo signori salve a tutti qui mi vede a trovare il mio signore il signore che viene da bari grande è uno spostatore e questo è la sua fortuna vedete qua adesso vi facciamo vedere cosa ci stiamo mettendo a questa macchina per farla diventare bella bella ecco qua ragazzi vai drittuai sembra una bella bandina del napoli allora qui c'è il mio grande enzo da dove vieni altamura sono venuto apposta apposta a bruno a montare cerchi e gomme top mamma mia ha detto tutto ragazzi allora vi dobbiamo solo salutare non ho parole buona giornata e noi si darà a chiamare a 334 25 50 93 arrivederci buona giornata ciao